L'odontoiatria è l'argomento della puntata di oggi di Rotocalco, siamo a massa e siamo nello studio SFP Dental Service Versilia. Al dottor Saverio Ferrari Parabita dell'SFP Dental Service Versilia chiediamo che cosa si può fare nei casi di astrofia ossea per avere una protesi fissa? Sì, nei casi di atrofia ossea che purtroppo sono parecchi, perché sono parecchie persone che nel tempo per vari motivi hanno perso osso in entrambi i macellari o anche in un solo macellare, solitamente le motivazioni sono delle patologie congenite o addirittura nei forti fumatori, nelle persone che fanno uso di stupefacenti, nelle persone che hanno avuto delle protesi incongrue che hanno portato a una terapia paradontale poi di rigetto, sono varie le situazioni che possono portare ad un'atrofia importante, però ultimamente se ne vedono parecchie, le atrofie importanti sono solitamente più facilmente riscontrabili nelle ossa macellari superiori, perché è un osso differente, quindi meno rigido, meno duro, più spugnoso di quello che può essere l'osso mandibolare che è invece un osso molto più statico e infatti la suddivisione ossea è una suddivisione ossea in quattro classi, si parte appunto dal numero 1 che è l'osso più marmoreo per intendersi e arrivare al D4 che è l'osso che è più sabbioso, in mezzo ci sono gli altri gradi. Solitamente nel macellare superiore abbiamo un D3, D4, nel macellare inferiore un D1, D2 e quindi ovviamente le atrofie sono maggiormente sviluppate nel macellare superiore. Chi si sta ascoltando che è un portatore di protesi mobile capisce perfettamente questo argomento, perché vuole dire applicare una protesi mobile sempre con tanta pasta, con altri accorgimenti per riuscire a farcela stare, perché purtroppo quando poi parla, mastica, sorride, urla, questa protesi tende a fare l'effetto, come dico io, discovolante, cioè a muoversi e a fuoriscire dal cavolare. Queste situazioni si possono ovviamente oggi cercare di guarire e di ristabilire, soprattutto con una normale funzionalità masticatoria e poi anche estetica, con questo tipo di chirurgia avanzata in caso di gravi atrofie. Questo è molto importante per la qualità della vita, si è alzata l'età media delle persone e quindi poter affrontare diversi anni senza usare la protesi mobile cambia veramente la vita? Eh beh sì, cambia veramente la vita anche perché un vecchietto come me vuole ancora dei denti fissi e chi ci ascolta di vecchietti come me, io più o meno una sessantina da anni ce ne sono tanti che purtroppo sono sdentati e in queste patologie io utilizzo l'ausilio di questi piccoli supporti plastici per far vedere come ad esempio questo è un paziente perché questa è una visione di un'attacca fatta poi con quello che sono le scanalizzazioni moderne e abbiamo ottenuto questa specie di taschietto che ci fa vedere come il macellare su un periodo di una persona come questa è atrofico, cioè qui praticamente c'è una lama di coltello, è ovvio che qui su un paziente come questo qualsiasi tipo di protesi mobile purtroppo non ha una grossa ritenuta. Allora qua ad esempio avevamo proposto l'inserimento di impianti zigomatici che per far capire al pubblico ne prendo uno, sono impianti molto lunghi, come vedete più o meno lunghi dai 4 ai 6 cm che vanno per almeno un paio di centimetri nell'osso zigomatico, nell'osso malare che è questo che è quello che noi tutti abbiamo sotto l'occhio che è un osso molto valido con una struttura importante perché solitamente è un D2 per intenderci nella scala ossea di cui valutavamo prima contro quello che può essere un D3 o un D4 del macellare superiore. Con le tecniche chirurgiche sugli impianti zigomatici oggi si fa ad esempio la tecnica più usata è quella extrasinusale, una volta si usava quella intrasinusale, cioè all'interno del seno macellare, ma il concetto è che poi questi impianti fuoriescono appunto a livello della cresta del macellare e permettono solitamente quando sono atrofie così importanti viene fatto un quad, cioè ne vengono messi due per lato, quindi 4 in totale per poter stabilizzare una protesi ovviamente mobile, ma che diventa fissa, che ha anche un pochino di finta mucosa. Un'altra soluzione... Ecco qui dottore siamo davvero di fronte alla chirurgia implantare avanzata. Sì, qui parliamo di chirurgia implantare avanzata, un'altra tecnica di chirurgia implantare avanzata, questo è sempre un macellare superiore di un paziente che ha un palato come vedete veramente ridotto all'osso, è un tavolato, qui ovviamente non ci sta nessun tipo di protesi mobile e si fa quello che è un impianto juxta osseo, qui vedete un modellino in plastica, ovviamente l'impianto che ho in mano e che sto maneggiando è fatto in titanio, è costruito su tailor made sul paziente, è fatto su quello che è la TAC, il dental scan del paziente, viene una volta che si incide e si scolla il palato e le ossa zigomatiche dall'interno, quindi esteticamente non ci sono danni visivi esterni sul volto, viene applicato come vedete a quello che è un tripode che è costruito dal palato e dalle due ossa zigomatiche, calcolate che durante la serie di intervento tutti i piccoli buchi che vedete, che sono più o meno una ventina, vengono inserite delle fixture, delle vite, degli impianti che bloccano perfettamente la struttura juxta ossea all'osso, quindi il paziente quando poi è finito l'intervento che solitamente dura più o meno 3 ore in sedazione farmaco indotta, quando si sveglia avrà la possibilità di avere questa struttura in plantoprotesica applicata come se fosse lì da parecchi anni, anche se è stata inserita un'ora prima, proprio per il fatto che è stata connessa da una ventina di viti passanti, in questo tripode dello scheletro facciale che sono i 3 pilastri portanti, anche quando ci sono i crash test che si fa un incidente in macchina o si cade in modo o altro, i pilastri facciali sono quelli che danno il sostentamento, perché ricordiamoci che poi qui abbiamo, ad esempio queste sono le fosse orbitarie e quindi abbiamo strutture che sono ovviamente delle strutture più deboli. Noi ci ancoriamo a quelli che sono i pilastri, quindi il paziente si sveglia che ha già una protesi fissa, congrua, completamente bilanciata. Questi sembrano miracoli, è solo tecnologia di oggi che ci permette attraverso una chirurgia implantare avanzata di ottenere degli ottimi risultati. Quali sono, uno giustamente domanderà le differenze tra quello che è un impianto iusta osseo o griglia per intendersi così per il grosso pubblico, se si capisce meglio, e quello che sono invece degli inserimenti di impianti zigomatici. Beh dipende da caso a caso, da paziente a paziente, da quanto è il braccio di leva protesico, qui ad esempio vedete che c'è un braccio di leva inferiore a quello che è la parte scheletrica del paziente di prima, quindi essendo un braccio di leva più corto la protesi lavora meglio, si possono fare anche volendo degli zigomatici. Dove c'è un braccio di leva superiore si fa invece magari uno giusto osseo, cioè una griglia, perché se no la parte protesica poi farebbe un po' il gioco d'altalena e andrebbe a dare fastidio a quello che sono i perni portanti di questi impianti. Questo si può anche realizzare nelle atrofie del mascellare inferiore, vedete ad esempio questo mascellare inferiore dove nella parte posteriore invece di fare quello che è un innesto d'osseo che va molto bene per la carità, però richiede dei tempi di quei giorni molto più lunghi, circa un anno prima di caricarlo e tutto, la gente oggi vuole il tutto subito, ponendo quello che è un giusto osseo che viene fissato con delle viti passanti, si riesce a ottenere un risultato immediato, a carico immediato, a normo funzionale e in planto protesico. Ecco dottore, vorrei concludere ponendo l'attenzione al dolore, perché abbiamo visto e parlato di tecniche che potrebbero spaventare, ma negli studi avanzati l'attenzione al dolore è molto importante e quindi… Sì, l'attenzione al dolore è fondamentale, diciamo che durante l'intervento dolore non c'è perché il paziente è addormentato, in anestesia farmaco indotta, nel post intervento prende dei farmaci importanti per sedare sia antinfiammatori che antidolorifici, c'è ovviamente un pochino di gonfiore e di edema che durerà una settimana come in tutti gli interventi, questa è una cosa normale. Io dico sempre, soprattutto alle signore che mi chiedono questi tipi di interventi, se uno vuole ben apparire un pochino bisogna soffrire. Uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda la prevenzione è anche l'alimentazione, ciò che si mangia, come si mangia e poi invece tutto il resto quando si inizia a fare prevenzione? Non è mai troppo presto per iniziare a fare prevenzione in realtà, tanto è vero che le ultime linee guida del Ministero della Salute indicano proprio come inizio della prevenzione e la gravidanza per due aspetti fondamentali, l'aspetto materno quindi per la protezione della gestante e per la prevenzione del feto e del bambino nascituro. Perché protezione della gravidanza? Perché gli studi dimostrano che i batteri che producono la malattia parodontale possono andare ad interferire con la gravidanza e quindi a creare problemi di parto prematuro, di nascita di bambini sotto peso, quindi tutta una serie di conseguenze proprio legate allo stato della gravidanza abbastanza importanti. Questa è dimostrazione ancora una volta di quanto sia legata la giusta igiene, la giusta cura della bocca anche al resto del corpo? Assolutamente, anche perché poi sempre in relazione proprio alle fasi di prevenzioni iniziali è fondamentale abbassare la carica batterica del biofilm della bocca della mamma perché durante le prime fasi di vita del nascituro si abbia meno colonizzazione batterica della bocca del figlio, quindi questo è un altro aspetto molto importante che ancora oggi si tende un pochino a sottovalutare, invece va riportata l'attenzione su queste fasi di gestione della prevenzione. Alla nascita poi del bambino è importante subito intraprendere un colloquio con il proprio odontoiatra, specialmente con un odontoiatra pediatrico che sappia dare quindi le giuste indicazioni sul modo di comportarsi anche con la bocca del neonato, anche se non ha denti, perché esiste comunque una pulizia delle mucose che va effettuata dopo l'allattamento che è importantissima per produrre salute del bimbo anche se molto piccolo.